Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta hanno pubblicato alcuni scatti del battesimo della figlia Matilde, avvenuto la scorsa domenica. La nuotatrice olimpica Federica Pellegrini e il suo compagno Matteo Giunta hanno pubblicato sui rispettivi profili social alcuni scatti del battesimo della figlia Matilde, avvenuto la scorsa domenica 26 maggio. La cerimonia e la festa sono state organizzate per pochi intimi, tra familiari e amici, a Verona. Federica Pellegrini battezza la figlia Matilde con una cerimonia privata. Federica Pellegrini ha festeggiato a Verona il battesimo della figlia Matilde, celebrato la scorsa domenica 26 maggio, insieme al compagno Matteo Giunta. La campionessa olimpica e il suo ex allenatore, diventato suo marito nel 2022, hanno scelto dei look total white per il giorno così speciale della bambina. La festa è stata celebrata davanti a pochi amici e ai familiari più stretti. Dopo la funzione religiosa, la campionessa e il marito Matteo Giunta hanno organizzato un pranzo tenuto a Vescovo Moro, un noto ristorante ed enoteca veronese. La star indiscussa della serata è stata la bambina, celebrata con una frase molto simpatica che i genitori hanno fatto stampare sulla torta battesimale. Brava Matilde, è stato scritto probabilmente per sottendere il buon carattere della bambina. La coppia ha pubblicato sui rispettivi profili Instagram le foto del battesimo della figlia. A colpire molto nei diversi scatti, dove la bambina compare a volto coperta per volere dei neogenitori, è lo sguardo di mamma Federica. La nuotatrice non guarda mai in camera, ma si concentra sul volto della sua piccola. Alcune settimane fa, invece, la piccola Matilde aveva partecipato a un altro, battesimo, quello dell'acqua. La madre l'aveva portata con sé in piscina per aiutarla ad ambientarsi nell'elemento che ha portato alla campionessa degli straordinari riconoscimenti. I neonati vengono dall'acqua, ed è importante mantenere questo feeling subito. Di sicuro Matilde saprà nuotare, poi farà quello che vorrà. Cosa vorrei insegnarle? A essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare. Così aveva spiegato l'atleta dopo aver condiviso i primi scatti con la bambina in acqua. Per il giorno del battesimo la Pellegrini ha scelto di condividere una citazione di madre Teresa di Calcutta come descrizione del post. Poi ha commentato divertita il marito Matteo giunta, e poi c'è. Mio marito con il cero e mia figlia con il piede nella torta. Ma questa è un'altra storia.